Noi siamo sul promotorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente. Noi viviamo già. Ustia! 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 Uuuu! Come qua! Come closer! Alle! Hoppla! Iiii! E' un bierke! Ustia! E' pota via da lìga? E' pota via da lìga? Oh! Oh, oh! Voi! Mijn... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. Oh! Yeah! See? They dry! Beautiful! Beautiful!